E di 11 arresti per riciclaggio e il bilancio di un blitz dei carabinieri in un magazzino di merce rubate in Contrada Monachelli ad Andria, un'operazione che ha permesso di recuperare beni per un milione di euro, tra cui quintali di stecche di sigarette rapinate ieri mattina. In tutto sono stati un centinaio gli uomini che hanno circondato un capannone individuando un vero e proprio emporio del mercato nero. Le indagini sono state avviate dopo che nella mattinata di ieri si era consumata una rapina ai danni di un autotrasportatore a Mola di Bari diretto a Lecce con un carico di sigarette e dei monopoli di Stato. I carabinieri hanno setacciato le aree industriali della città e hanno individuato ad Andria un capannone industriale in località Monachelle, a ridosso di Via Trani, dove erano emerse frequentazioni insistenti di alcuni noti pregiudicati del luogo. Giunti sul posto e cinturata la zona, i militari hanno fatto irruzione all'interno del capannone, dove gli arrestati stavano modificando i colli di diversa merce per eliminare il collegamento tra la merce e la rapina all'autotrasportatore spezzando la tracciabilità del prodotto. Oltre alle sigarette nel capannone è stata trovata anche altra refurtiva, cosmetici, attrezzi agricoli, troll e i termosifoni in ghisa, filamenti per la tessitura del valore complessivo di circa un milione di euro e di cui si sta cercando ora di stabilirne la provenienza. Nel corso delle perquisizioni ci sono stati sottoposti a sequestro anche un tiro, un carrello elevatore rubato a Battipaglia in provincia di Salerno tre anni fa, due jammer muniti di 32 antenne utilizzati dai malviventi per eludere i controlli delle forze dell'ordine. Tutti gli arrestati, con precedenti originari di Bari e della Bat, sono accusati di riciclaggio in concorso e associati al carcere di Trani.